Siamo con Alfonso Sollazzo che sta conducendo una protesta molto importante sia per lo sforzo visto la sua persona che è riduce da un intervento e da una forma diabetica sia per la cittadinanza. Alfonso puoi dirci più o meno cosa pensi e per quale motivo stai protestando? Voglio dirvi prima quello che penso che ci troviamo su un'isola di 60.000 abitanti e l'ospedale serve a tutti per un motivo o per un altro e purtroppo vedo proprio la mancanza della solidarietà della gente che mi sarei aspettato a meno che qualcuno si aggregasse per solidarietà questa mia protesta. Poi sto protestando perché io venerdì ho avuto un intervento. Diciamo è importante e ieri mattina sono stato dimesse e mi trovavamo a quello del corso per fare dei documenti. E' arrivato un ragazzo di 44 anni in partoato e sarà chiamato subito l'eliambulanza che per condizioni avverse meteomarine non è potuto alzarsi in volo, non è tantomeno che non è potuto partire la moto vedetta della guardia costiera. Fortunatamente i medici dell'ospedale, i sanitarie dell'ospedale sono riusciti a ristabilizzarlo e per poi poter aspettare addirittura l'elicottero dell'età pneumatica che si è alzato in volo perché loro si possono alzare con tutti i tempi di notte e di giorno per poter trasportare questo ragazzo a uno secondo di Napoli. Dico io, ma chi dovrebbe interessare non potrebbe attrezzare questa struttura almeno per i primi interventi e poi con più calma fare questi trasbordi.